Siamo con Enrico Calvi di Coinova. Enrico, perché scegliere una vacanza in camper? Libertà, autonomia, a proprio agio, proprio come a casa vostra. Dentro il camper avete tutto a disposizione, uno spazio tutto vostro, accogliente e personalizzato, da condividere solo con i vostri cari. Un luogo protetto e sicuro, con una finestra sul mondo che scorre fuori dai finestrini. Appena si accende il motore, inizia il divertimento, si sale a bordo e si vive da subito un grande senso di libertà, sentendosi a casa e in vacanza allo stesso tempo. Il camper permette vacanze sicure? Assolutamente sì, il camper permette vacanze sicure. Si ha la garanzia di dormire nel proprio letto, cucinare con le proprie stoviglie, fare una doccia nel proprio bagno e così via. Presto si spera al prima possibile, torneremo ad avere maggiore libertà di movimento e quindi anche la possibilità di viaggiare. Non fatevi cogliere impreparati, pensate al noleggio o all'acquisto di un camper tutto vostro, perché il camper dà la possibilità di portare in vacanza la tranquillità di casa.